Nonostante una buona reazione nell'ultimo quarto, la Sigeco Piacenza paga un pessimo approccio alla gara del Biella Forum ed esce sconfitta contro la rea del Noll per il 95-89. Momento chiave del match, il secondo quarto in cui la Sigeco subisce 37 punti e l'inizio del terzo periodo che spianano la strada del successo ai padroni di casa. Non è bastata la reazione nel finale, Sabatini è l'ultima ad arrendersi e emette la tripla del 91-89, poi purtroppo commette il fallo antisportivo che fa calare il sipario sul match. Tra i protagonisti bianco-rosso-blu 17 punti per Gerardo Sabatini, Luca Cesana e Marquis Magtaffi che aggiunge anche 8 rimbalzi. In classifica la Sigeco rimane nel gruppone delle terze a quota 24 punti. Gli uomini di Salieri devono dimenticare in fretta questa gara per affrontare al meglio quella di mercoledì al Palabanca contro Treviglio.